C'è chi la vuole italiana, tedesca o addirittura francese, e poi ci sono quelli che non hanno dubbi e la pretendono americana. È l'auto sportiva, una tra le scelte più soggettive che si possa fare quando si compra l'auto nuova, con l'intenzione di passare qualche domenica in pista. Noi l'abbiamo fatto con la Mustang GT, con motore V8 da 5 litri di cilindrata, in sostanza la sorellona maggiore della più europea 2.3 EcoBoost. Si parte e dopo i primi istanti si capisce subito quanto sia differente la clientela che si rivolge ad un modello di questo tipo. Non c'è la leggerezza di una sportiva nostrana, al contrario, il look è imponente come da tradizione e dal posto di guida la visibilità scarseggia, ma il bello è che ci si abitua dopo qualche chilometro. In pista questa Mustang diverte tanto, con un sound che non si sente spesso sulle strade di tutti i giorni. Ai regimi più bassi sembra quasi poco reattiva, ma è solo un'impressione che svanisce premendo un po' di più l'acceleratore. Si va via veloci fino a 4.000 giri e qui il motore cambia letteralmente voce e ci fa sentire tutti i 400 CV a disposizione. La guida non è subito intuitiva e occorre lavorare con mani e piedi per domare quest'auto, ma appena presa confidenza il divertimento è assicurato. Il telaio non è più pesante come qualche anno fa e sfoggia un modernissimo multilink in alluminio che garantisce leggerizza e un'ottima tenuta di strada, anche quando si esagera. E il motore cosa racconta? La potenza di 421 CV consente di staccare da 0 a 100 km orari in 4,8 secondi per una massima auto limitata elettronicamente a 250 orari. Tutto è gestito dalla trasmissione manuale a 6 marce, ma con 2.000 € in più ci si porta a casa la gemella automatica sempre a 6 rapporti. In entrambi i casi tenetevi buono il benzinaio di fiducia, con consumi medi tra i 12 e i 13 litri scolati ogni 100 km, ma questa è tutta un'altra storia.